Buongiorno, good morning Milano, Cristal Radio in diretta anche questa mattina alle 7.09 di oggi, martedì 23 aprile, ben ritrovati sempre qui in diretta. Oggi fa freddo, basta, sono 5 gradi più o meno fuori, quindi fa un freddo pazzesco. Tutti quanti sarete fatti su nel piumone, i riscaldamenti sono già stati spenti, quindi davvero situazione complicata che porta ovviamente a nasi che colano, tosse, raffreddori, tutte quelle robe lì che pensavamo di esserci tolti. Siamo passati dal raffreddore per allergia a quello per freddo in un attimo, cioè in un lampo di 2-3 giorni. Adesso vediamo ancora qualche giorno di freddo, sicuramente fino a fine mese, poi dovrebbe finalmente ritornare il caldo. E alla faccia di chi dice che non c'è il cambiamento climatico, infatti guardate che roba, non ci sono più le medie stagioni, no è vero, nel senso che proprio ci sono stagioni che alternano ormai, a giorni alterni si va. Comunque, voi come state invece? Cosa state facendo? Dove siete andando? Dove cosa? Con chi? Dove? Perché? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, ce lo volete raccontare così, condividere con noi la vostra giornata. Questo martedì è una settimana un po' più corta, oggi è martedì, poi mercoledì, poi giovedì festa e poi venerdì alcuni fanno il ponte. Noi ci siamo venerdì, non ci siamo giovedì ma venerdì ci siamo. Siamo sempre qui, sempre a raccontarvi tutto quello che succede a Milano. Grazie anche a voi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Andiamo con la musica! Subsonica con Universo, alle 7 e 14 minuti qui su Crystal Radio Milano. Good morning Milano, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp a cui possiamo già leggere il nostro primo Whatsapp della mattina, quello di Alberto che dice buongiorno a Fabio e a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio. Si riparte al freddo e al gelo dopo una nottata abbastanza tranquilla. In che senso? I festeggiamenti dello scudetto che almeno qui in fondo a Naviglio sono stati moderati. Effettivamente è la giornata della seconda stella dell'Inter, ventesimo scudetto per i nero-azzurri, nottata tranquilla da quelle parti lì, anche se mia zia abita lì in zona. Quindi secondo me un po' di baccano l'ha fatto, ve lo dico già. La zia Clarissa un po' di baccano l'ha fatto, credo. Ma vabbè, qui un po' meno, qui vicino agli studi, qui vicino a dove siamo noi, che appunto è zona San Siro, un po' meno. C'era un po' più confusione, ovviamente. Però devo dire, infatti, grande festa per l'Inter, anzi leggiamo da Repubblica Milano, festa Inter, caroselli sotto la pioggia nelle vie del centro e balli nelle pozzanghere. E in Duomo, capannelli che sfidano l'umido fradici di felicità per la seconda stella, appunto. Voce del verbo festeggiare alla luce dei lampioni e all'umido fradici di felicità e di pioggia, danzando nelle pozzangore. Questo, appunto, è un po' il racconto della festa di ieri sera dell'Inter. Ci sono un po' di foto, video, stanno girando un po' di tutto, stanno girando sia sui social che sui giornali di oggi. Lungo carosello in colonna su Corso Buenos Aires, ad esempio. Poi Darsena, colonne, Arco della Pace, Duomo, ovviamente. Corso Vittorio Emanuele da San Babila fino a Duomo, tutto pieno di gente che continuava a cantare e intonare i cori della curva. Insomma, una grande festa che è arrivata oltretutto nella nottata forse più bella per l'Inter nel vincere uno scudetto contro il Milan nel derby della propria città. Insomma, qui tantissimi, tantissimi articoli. Ci sono appunto uno di Repubblica Milano che dice ore 22.43, San Siro esplode per la festa nero-azzurra. Folla di tifosi davanti allo stadio e in piazza Duomo. Infatti c'era tantissima gente anche qui e qui, insomma, grande dispiegamento anche di forze dell'ordine. Perché insomma, c'era tanto, tanta... Sono situazioni sempre abbastanza pericolose, o comunque potenzialmente pericolose. Ecco, diciamo così. Invece, per fortuna tutto sembrerebbe per il momento andato bene. Poi vedremo se arriverà un bollettino durante la mattinata. Comunque, appunto, festa dell'Inter. La città invasa dai nerazzurri. Tutti i giornali lo dicono, nel senso, i tifosi, la festa del derby. Lo dice anche, appunto, il Corriere della Sera Milano che ancora in questo momento l'articolo in live. Cioè, lo stanno aggiornando, ormai non più, però lo stanno aggiornando. Sono arrivati anche dei trattori in piazza del Duomo per festeggiare la vittoria dello Scudetto con cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato. Insomma, il derby che ha portato la seconda stella all'Inter. Forse non c'era modo migliore per festeggiare questa seconda stella per i nerazzurri. Vediamo se invece ci sono ancora in giro Caroselli, oppure no, chissà. O se invece sono tutti a casa a dormire questa mattina perché hanno fatto tardi ieri sera per i festeggiamenti. Quindi com'è il traffico in città in questo momento? Ce lo dicono, come sempre, dalla redazione di Luce Verde. Così che possiamo avere una fotografia, sull'istante in tempo reale, del traffico su Milano e la città metropolitana. E quindi, linea a voi, Luce Verde! Rosalia Beso! E ora continuiamo a parlare invece di Milano perché abbiamo sentito un po' il traffico prima, grazie a Luce Verde, la situazione del traffico in diretta, appunto in tempo reale su Milano, ma ci sono un po' di notizie che hanno a che fare con la viabilità e i cambi che ci saranno in questo periodo, appunto, nella nostra città. Tra parentesi, ricordiamo sempre che in Porta Genova sono iniziati dei lavori importanti per cui cambio delle linee del tram 2 e del tram 9 che avranno delle modificazioni. Avranno modificati un po', quindi date sempre un occhio al sito ATM e all'applicazione anche di ATM, appunto, per capire meglio come muoversi in quella zona. Ma, ad esempio, non ci allontaniamo tantissimo da quella zona lì perché, leggiamo da Repubblica Milano, una nuova pista ciclabile tra via Olona e Parco Solari a Milano. I cantieri sono collegati alla M4 e andranno avanti fino ad ottobre. Corsia per le bici a doppio senso e poi marciapiedi più larghi in Papignano e davanti anche al Museo della Scienza. E quindi, sì, prendono forma, sta già prendendo forma la pista ciclabile in via Olona. Ad ottobre, quasi in coincidenza con l'apertura totale della linea M4 del metro, i cantieri saranno portati a termine e sarà quindi interamente fruibile il nuovo percorso delle biciclette per biciclette, appunto, lungo 600 metri che da via Olona arriva fino al Parco Solari anche passando per via Modestino. Insomma, questo è un po' quello che cambierà una complessa riqualificazione della zona da un nuovo piazzale d'ingresso per il Museo della Scienza e della Tecnologia al mercato di Viale Papignano fino alla piantumazione di nuovi alberi e piante. Questo è un po' tutto quello che succederà in quella zona. Il marchio di fabbrica, dice Repubblica Milano, sarà ed è sicuramente l'ampliamento che riguarderà anche il marciapiede per tutto il percorso. Il tratto tra via Vico e via Prisco, dove si trovano i due edifici scolastici, sarà largo 4 metri e mezzo in modo da rendere agevole e sicuro l'accesso agli studenti e verso, appunto, la scuola. E, appunto, di scuole, strade sicure parliamo perché sempre da Repubblica Milano andiamo a leggere un altro articolo. Strade sicure davanti alle scuole. A Milano il progetto si allarga. In 100 vie si andrà a 30 all'ora. E il sindaco Sala dice anche Salvini è d'accordo. Piccola stoccata al ministro. Il piano per portare avanti la velocità ridotta va avanti, appunto. Il sindaco per settembre vorrà avere un numero significativo di zone 30. Anche qui, io non capisco se siamo noi, ma molto probabilmente siamo noi giornalisti, che a volte poi ascoltiamo una parola e subito andiamo a scriverla, senza ascoltare poi quello che c'è dopo la virgola e magari dopo la capo. A mesi fa, quasi un annetto fa, ormai era uscito il tema della Milano a 30, cioè portare tutta Milano a 30 all'ora e poi lasciare il 50 all'ora solo in alcune vie, approvato dal Consiglio Comunale, il sindaco non era proprio di quell'idea. Non era proprio di quell'idea. Ma poi, adesso, sembra che deve essere tornato sui suoi passi. O meglio, sembra dire no, io spero di avere tantissime zone a 100, scusate, almeno un 100 via, dice appunto, avere un numero significativo di zone 30. Quindi anche lì, forse ogni tanto dovremmo aspettare quando escono delle notizie, quando qualcuno fa la dichiarazione, capirla bene, andarla a leggere e leggere gli incisi, leggerli a capo appunto, che sono magari le cose importanti che ci raccontano poi davvero in che direzione va. Perché se no uno sembra uno schizofrenico che non sa mai da che parte... Sì, no, forse, ma no, 50, 30, 70, insomma. Questo è quant'è. Appunto, quindi, approvato il piano per portare avanti la velocità ridotta in città e il sindaco dice appunto per settembre vorrei avere un numero significativo di zone 30. Soprattutto queste qui saranno appunto le famose strade sicure davanti alle scuole. Bruno Mars, Deaths Water Like, 7,35 minuti, sempre qui per la nostra nuova seconda mezz'ora di trasmissione in vostra compagnia, 331-78-53-555. Se volete condividere con noi quello che magari volete fare oggi o che progetti avete oggi, noi vi diamo un suggerimento. C'è una giornata intera oggi che potete dedicare a Nanni Svampa. In che maniera? Bene, lo chiediamo alla nostra ospite collegata con noi, Nucci Ferrari, cofondatrice dell'associazione Nanni Svampa. Buongiorno e benvenuta a Good Morning Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e anche a chi ci ascolta, ovviamente. Grazie mille di essere qui con noi. Allora, dicevo, oggi c'è una intera giornata dedicata a Nanni Svampa. Anzi, ci sono le Svampeide? Come le possiamo chiamare? Così, giusto? L'avete chiamata? L'abbiamo chiamata Svampeide perché veramente siamo andati alla ricerca delle origini dello Svampa, delle origini nel senso dell'opera artistica perché Svampa ha fatto tantissimo. Ha fatto l'attore, il cantautore, l'umorista, lo scrittore, ha curato tutta la ricerca della canzone popolare dei riti contadini, ha girato documentari, quindi ha tradotto Brassense prima in milanese e poi in italiano, quindi abbiamo detto forse una giornata basta, speriamo, per raccontare tutto quello che ha fatto Svampa, però in modo ovviamente divertente alla Svampa, quindi al mattino ci sono dei, chiamiamoli proprio degli esperti che analizzeranno le varie parti della carriera dello Svampa, non so, c'è la francesista Mirella Conenna che sa tutto su Brassense e quella che dopo Svampa veramente sa tutto che analizzerà come Svampa ha fatto le traduzioni, è stata a casa sua un po' di tempo e ha visto nell'archivio, ha trovato degli appunti, delle chicche di cui condividerà il senso, poi Flavio Oreglio che invece parlerà dello Svampa cabarettista, dai gufi allo humor, ai locali degli anni sessanta, eccetera, eccetera. chi si stesse chiedendo dove e quando spieghiamolo subito così dopo andiamo avanti a spiegare cosa, ma diciamo subito dove e quando. Al teatro Elfo Puccini nella sala Bausch, cominciamo le 9.45, fra due ore si inizia, quindi mancano un paio d'ore, tra un paio d'ore già si inizia, ecco no, la cosa interessante è questo, e lo dico a chi ci sta ascoltando, nonostante venendo a teatro, uno pensa a teatro, ok ci vediamo stasera alle 21, no, non è stasera, è tutto il giorno, è tutto il giorno, iniziamo appunto, diceva, 9.45, finirà intorno alle 5.30 giù di lì questa sera, sì, intorno alle 5.30, tutto il giorno, quindi anche se volete passate di lì, boom, buttatevi dentro perché c'è qualcosa a qualsiasi momento oggi, giusto? Sì, sì, in qualche posto c'è ancora perché ovviamente bisognava un po' prenotarsi, però qualche buco c'è ottimo, ottimo, e quindi qualche fortunato magari può venire, anzi lo aspettiamo, ovviamente nel pomeriggio poi per parlare è un po' diverso, non le dicevi, Nucci, mattina e pomeriggio sono un po' diversi, sono un po' giusto, ecco, sì, la mattina è un po' più scientifico, non diciamolo troppo se no svampa si arrabbia, e pomeriggio è più legato ai ricordi, agli aneddoti, infatti si aggiungeranno ospiti come Lino Patruno in collegamento da Roma, Enrico Intra perché aveva l'intra, Sderby Club dove passavano tutti compresi Svampa, Patruno, vabbè c'erano anche poi Iannacci e tutti gli altri e poi ci sarà Massimo Cicconi che è un operatore culturale della provincia che ha fatto tantissimo per quanto riguarda i personaggi di Milano e provincia e poi ci sarà Mario Mascioli che ha tradotto insieme a Svampa tutta l'opera omnia di Brassens, insomma al pomeriggio una Kermess veramente meravigliosa di curiosità ognuno racconterà un aneddoto una chicca una cosa successa con lo Svampa di cui nessuno sa quindi sarà divertente sarà molto divertente Nucini hai anche tu immagino di aneddoti con lo Svampa no? Beh sì io ho lavorato con lui per la sua società per vendere i suoi concerti nove anni quindi mi considero una collaboratrice storica della Ganivel e adesso infatti per quello con la famiglia Svampa con Dina Svampa la moglie e le figlie e altri soci abbiamo creato l'associazione Nanni Svampa questo è il quarto evento che facciamo da quando Nanni ci ha lasciato purtroppo e ogni evento è molto diverso ma sempre per ricordarlo parlarne tenerne viva la memoria perché Nanni è stato un mondo nel mondo artistico italiano veramente ha abbracciato tante discipline quindi manca a tantissimi a tantissimi di noi a tantissime persone manca e quindi noi lo facciamo ritrovare la cosa interessante è questo appunto il capire tutto il Nanni Svampa magari quello anche che non è conosciuto ai più anche quelle cose magari che sono state meno conosciute anche a livello artistico ma che in realtà poi sono fondamentali per la creazione di una carriera artistica della quale Nanni Svampa perché insomma hanno tantissime cose che magari i più non sanno infatti per esempio lui ha scritto otto libri dedicati ai vari aspetti che prendeva in considerazione dalla canzone popolare ma anche alle barzellette il titolo è bisogna saperle raccontare oppure scherzi della memoria un libro bellissimo dove c'è raccontati proprio da Svampa vari momenti della sua carriera dove lì lui ha svelato delle cose dei retroscena dei backstage eccetera quindi per esempio i libri ma anche quando faceva l'attore di cinema Nanni era un grandissimo attore non lo dico io ma lo dicono ci sarà per esempio Fiorenzo Grassi che ricorderà i tempi del teatro uomo e non solo con Nanni attore drammatico pensa la differenza fra Nanni gufo e Nanni attore drammatico è veramente notevole veramente notevole tante cose chi verrà si porterà a casa tanto Svampa che magari non conosceva e che scoprirà veramente scoprirà come si fa a raccontare Nanni Svampa nel 2024 sembra un personaggio ormai di ere glaciali ormai dimenticate nel passato ormai un mito storico quasi anzi dobbiamo trovare sui libri storici come fate appunto infatti infatti la mattina soprattutto serve proprio perché analizzando la sua opera le trasposizioni per esempio che aveva fatto di Brassens dalla Parigi alla Milano di allora eccetera in realtà risulta molto attuale la sua opera non parliamo poi della satira del sociale del modo di vivere di noi italiani cioè è attualissimo Nanni è attualissimo per quello che ripercorrerne i passaggi della sua carriera ci fa notare come è ancora collocabilissimo in questi tempi in questi momenti era un visionario per cui parlava di cose che non erano ancora forse pronti molti di noi non eravamo pronti ad accoglierle e che invece sono poi diventate realtà quindi l'attualità della sua opera è uno degli aspetti che verrà fuori molto bene durante la mattina durante le relazioni dei sei esperti compreso il suo modo di scrivere le canzoni come cantautore proprio perché Svampa non ha fatto solo il riportatore della canzone milanese o della canzone d'autore milanese di danze bracchi e non solo mi cito a caso ha scritto anche cose sue per esempio la mitica io vado in banca dimmi tu se non è attualissima ancora rispetto a quello che uno vorrebbe fare magari invece non può e deve fare altro cioè sono veramente modi di vivere che ancora adesso ci appartengono lui li ha visti 40 50 anni fa 30 anni fa ma i visionari sono fatti così sono fatti così quando si parla di artisti forse appunto bisogna un attimino vedere davvero chi sono ed eccoli qua quando poi li andiamo a ritrovare nell'elenco molto corto dei veri artisti che abbiamo che poi dopo ogni tanto si aggiungono persone che meglio non metterli in quelle liste Nucci ricordiamo bene allora l'evento Svanpeide dove come quando teatro elfo Puccini in corso Buenos Aires dalle 9.45 stra puntuali perché Nanni non amava il quarto d'ora accademico fino alle 17 eccoci e quindi oggi tutto il giorno appunto Svanpeide quindi c'è tutta questa andate a vedere passate c'è un sito dove possiamo controllare e vedere qualcosa il programma o cose così sì sì sul sito dell'elfo sicuramente ma anche nella pagina eventi e poi anche sul sito dell'associazione Nanni Svampa perfetto grazie mille allora Nucci grazie mille anche all'associazione Nanni Svampa e buon lavoro manca poco mancano adesso sono le 7.45 fra due ore si apre si pari va bene si comincia Svanpeide è una giornata che non ti aspetti grazie mille Nucci buona giornata allora buonas Svanpeide anche a te a presto ciao grazie e andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui fra poco sempre in diretta qui su Cristal Radio con Good Morning Milano Lucio Battisti 7.40 e andiamo avanti andiamo avanti ancora con un po' di musica no ho sbagliato scusate con un po' di notizie anzi scusate abbiamo un po' di notizie ancora da leggere qui sui nostri giornali davanti perché appunto a Milano secondo Repubblica a Milano arrivano in autunno 450 taxi in più in servizio il Tar salva il bando per le licenze Palazzo Marino potrà quindi assegnare subito i permessi i conducenti possono ancora sperare di far aumentare gli indennizi ma non ottengono quindi lo stop sappiamo che c'è questa diatriba appunto tra comune e in categoria dei taxi tutto legato appunto al fatto che i tassisti non accettano questo aumento delle licenze perché andrebbero a svalutare troppo le proprie licenze quindi chiedono gli indennizi il comune adesso potrà quindi dare questi indennizi ovviamente i tassisti chiedono che questi vengano aumentati che siano insomma corposi e di un certo senso lo sai dire però non hanno ottenuto lo stop della delibera appunto con l'aumento delle 450 licenze che arriveranno in autunno a Milano questa è la situazione attualmente e questo è quello che un po' dovrebbe andare a delineare la situazione e sentiremo però adesso cosa faranno anche il sindacato dei tassisti i tassisti come appunto reagiranno a questa sentenza del Tar che vede secondo appunto come dice Repubblica Milano un 1 a 0 per Palazzo Marino dice mai solo il primo tempo la sfida tra comune e tassisti in tribunale è stata parzialmente vinta dal primo cioè dal comune il Tar della Lombardia infatti ieri si è espresso sul ricorso che le associazioni tassisti avevano fatto sul bando per le nuove licenze indetto a marzo il tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta delle auto bianche di sospendere la gara un esito che rassicura per il momento Palazzo Marino che può procedere quindi ad autorizzare le 450 licenze in più messe a bando non è però finita perché il Tar si pronuncerà definitivamente anche nel merito delle richieste dei tassisti del 12 dicembre cioè il 12 dicembre scusate quando ormai le nuove automobili però saranno già probabilmente in circolazione quindi il merito arriverà la sentenza di merito arriverà il 12 dicembre ma le licenze saranno messe fuori in autunno e quindi il rischio poi lì è cosa succede se il Tar poi dopo dice no non andavano bene queste 450 licenze quelli che l'hanno presa cosa fanno fanno ricorso a loro volta allora forse cerchiamo di trovare una soluzione prima che così che insomma si riesca a dobbiamo trovare una soluzione perché comunque c'è un danno prospettato di natura patrimoniale verso i tassisti che hanno già le licenze questo riconosce però dice comunque facoltà del comune procedere a disegnare nuove licenze quindi bisogna capire se adesso il comune accetterà di aumentare questi indennizi e quindi magari si riesce a trovare una Pax tra i taxi e il comune di Milano che sappiamo insomma essere un tema sempre molto caldo quello intorno diciamo a questi problemi legati ai tassisti che poi sappiamo comunque essere un problema a Milano perché spesso volentieri abbiamo visto durante la salone del mobile file interminabili di gente alla ricerca di taxi e taxi introvabili quindi che ci sia un tema sul tavolo da dover risolvere è palese cerchiamo di risolverlo però nella migliore delle maniere anche per i tassisti perché giustamente la categoria ha bisogno di difendere i propri diritti e soprattutto i propri investimenti patrimoniali che sono di centinaia e centinaia di miliardi di euro a volte e quindi insomma bisogna anche capire che insomma se si spendono soldi per una licenza e poi dopo questa l'ho pagata 10 e poi dopo un anno vale 3 no c'è un problema quindi bisognerebbe rivedere credo tutto il comparto dei taxi non solo a livello proprio amministrativo comunale di Milano ma in generale forse su tutto il bacino italiano e rivedere proprio che cosa e come funziona il comparto di tutti i taxi e non parliamo di Uber non parliamo degli NCC non parliamo di tutto il resto insomma si aprono altri capitoli interminabili che adesso non possiamo andare ad aprire e a leggere perché è il momento di Mahmood con Bario Mahmood con Bario alle 7.55 minuti e adesso andiamo in pausa 331 7853 555 è il nostro numero di whatsapp adesso un po' di musica il giornale radio poi il cristallistory poi torniamo qui ancora in diretta come sempre per raccontarvi un po' tutto quello che succede a Milano nella città metropolitana abbiamo raccontato del Svanpeide oggi ma poi ha tante altre notizie anche nella seconda parte di trasmissione fino alle 9 qui in diretta su Crystal Radio Milano mi raccomando 331 7853 555 è il nostro numero di whatsapp occupate di iscriverci per raccontarci un po' tutto quello che avete in programma da fare oggi oppure che avete fatto ieri oppure se avete festeggiato lo scudetto dell'Inter dove avete messo la seconda stella l'avete già cucita sulla vostra maglia sulla vostra bandiera sul vostro stendardo sulla vostra sciarpa siamo qui per raccontarlo e per farcelo raccontare a fra poco adesso i Queen Radio Gaga e sono i gabbiani di Juni Russo con un'estate al mare che ci danno il benvenuto nella seconda parte di trasmissione alle 8 e 11 minuti di oggi martedì 23 aprile questo era appunto il Crystal History ogni ora c'è una canzone che ha fatto la storia della musica e oggi era Juni Russo con un'estate al mare prima abbiamo sentito anche Battisti Lucio Battisti con 7.40 insomma che programmazione questa mattina e vedo già cosa arriverà dopo di noi dopo questo piccolo stacchetto ragazzi cosa non arriva piccolo stacchetto ma come parlo stamattina comunque quello che arriva dopo dovrete sentire c'è più Michael per tutti come diciamo sempre comunque 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 invece leggiamo da Repubblica Milano Repubblica Milano nuova notizia sull'inquinamento perché Patto Padano in quattro punti contro lo smog stop alle caldaie a gasolio decongestione del traffico elettrificazione del trasporto pubblico ed edifici green i sindaci di tutti i partiti riuniti a Milano chiedono fondi per ridurre l'impatto ambientale di veicoli di agricoltura e per accelerare sulla riforestazione urbana ebbene sia una convergenza politica trasversale per dichiarare guerra allo smog nel bacino padano perché l'aria non conosce né confini amministrativi né colori politici l'annuncio è dei sindaci di Milano Torino Venezia Bologna e Treviso che hanno proposto le loro ricette per ridurre le emissioni di particolato atmosferico nella pianura padana smantellamento delle vecchie caldaie comunali a gasolio decongestione del traffico elettrificazione del trasporto pubblico e ricondizionamento energetico degli edifici appunto appello bipartisan leggiamo sempre da Repubblica dei sindaci per il clima un appello bipartisan per chiedere a governo e Unione Europea fondi per ridurre l'impatto ambientale di trasporti e attività agroindustriali l'area padana è uno dei casi più critici a livello europeo per le sue caratteristiche territoriali e per l'alta densità abitativa e produttiva lamentano i sindaci chiediamo quindi un forte coordinamento delle azioni anche tramite una struttura speciale commisteriale che in accordo con i nostri enti e coinvolgendo anche le regioni ci aiuti a individuare azioni ed obiettivi possibili c'era anche Sala ovviamente ha parlato anche lui e ha detto da soli possiamo fare poco quindi dal palco appunto del piccolo teatro streller si sono avvicendati esponenti del mondo della politica dell'associazionismo delle università Milano sul tema dell'inquinamento ha fatto molto ma non basta ha puntualizzato il sindaco di Milano Beppe Sala si è limitato il traffico con le aree B e C abbiamo elettrificato i mezzi pubblici e stipulato il Climate City Contract con l'Unione Europea ma i soli comuni da soli non possono fare tutto possono anzi fare ben poco nonostante i sindaci siano molto pragmatici serve il sostegno del governo e dell'Unione Europea e il tema dell'inquinamento non può essere etichettato politicamente ma io me lo auguro effettivamente è un po' troppo etichettato e a volte anche ci sono delle azioni forse un po' troppo ideologiche soprattutto nella costruzione di aree nuove di sistemi di piste ciclabili di piazze tattiche insomma sappiamo che si va un po' a mischiare sempre poi tutto quello che è il pragmatismo e la realtà il bisogno reale di una città e di un problema con l'inquinamento della prima padana che è altissimo un problema davvero davvero forte e dall'altra delle soluzioni che insomma piacciono solo una parte politica o servono per farsi belli con la propria parte politica insomma ecco qui venga quindi l'appello del sindaco Sala appunto che dice il tema dell'inquinamento non può essere etichettato politicamente me lo auguro sindaco buon lavoro allora e complimenti a tutti i sindaci del bacino della pianura padana che hanno appunto fatto questo appello e questo incontro ieri al picco teatro streller michael jackson thriller 8 e 20 minuti sempre qui in diretta su cristal radio per così raccontarvi un po' tutto quello che succede nella città ma anche leggere i giornali come ad esempio Repubblica Milano che parla di tassa sui rifiuti perché a Milano c'è lo sconto giovani del 25% contro il caro casa parte quindi il bonus sull'Atari tributo tagliato agli under 30 per abitazioni per abitazioni scusate fino a 100 metri quadri per tutti fermi tutti un attimo va bene ci sta fino a 100 metri quadri voglio sapere chi è che under 30 ha un'abitazione di quasi 90 metri quadri anche solo ma anche 80 ma anche 70 secondo me ci fermiamo a 30 se va bene quindi insomma vabbè tributo tagliato agli under 30 per abitazioni fino a 100 metri quadri per tutti cambiano le scadenze prima rata da pagare entro il 10 luglio quindi cambiano ma chi è che anche sta cosa che ti fa pagare le tasse d'estate secondo me è una cosa che dovrebbe essere illegale cioè io sono d'estate finito cioè finisce la scuola basta finisce tutto ci rivede a settembre invece no c'è le tasse a luglio e l'acconto no sono cose che comunque sempre meno 25% per le famiglie composte da più di 4 persone ci sono anche altri sconti non mica solo per gli under 30 meno 15% per gli over 75 adesso vedrete che tutti quanti intestano le case ai nonni così almeno hanno il 15% di sconto meno 10% per mamme e papà single vorrei capire chi è che non chi è che paga 100% quindi solo 3 persone alla fine meglio così anche qui poi vabbè tutta questa tecnica delle detrazioni degli sconti che io non capisco perché nel senso va bene tutto però non basterebbe abbassarle punto no invece ci sono allora solo adesso ci sono allora gli under 30 residenti con un o con un semplice domicilio a Milano beneficeranno della riduzione del 25% quindi una fascia poi 25% per le famiglie composte da 4 o più membri quindi seconda fascia 15% per gli over 75 terza fascia 10% in meno per mamma e papà single quarta fascia e poi c'è la tariffa normale quindi 5 cioè 5 tariffe per una tassa cioè non sarebbe più comodo trovare una soluzione per cui si paga tutti meno tutti giusti non so non capisco sarò troppo sono io che sono troppo liberale in questo cosa non so comunque vabbè comunque tornando ai giovani la delibera ha spiegato l'assessore al bilancio Emanuele Conte che non è quello che canta no quello Emanuele Casto è pensata per aiutare studenti giovani coppie lavoratori a sostenere le spese in una Milano sempre più cara un segnale di attenzione a chi decide di studiare o avviare un progetto di vita o di lavoro nella nostra città sì ricordiamo la città che va bene ben venga cioè sono contento signor Assessor Casto Conte scusi ho sbagliato Assessor Conte sono d'accordo con lei dopodiché cerchiamo di renderla più di vivere per tutti questa città perché davvero diventa sempre più complicata e la gentrificazione che ormai è una parola che abbiamo imparato a conoscere la regna sovrana in tutta la città sempre più difficile riuscire a vivere in questa città sempre più complicato quindi cerchiamo davvero di fare in modo che si riesca ad arrivare a una città che possa essere più a misura di persone più a misura di tutti mi verrebbe da dire no cioè è una città che sappiamo essere inclusiva che vuole bene a tutti che cerca ma ti chiede davvero tanto e questo tanto che ti chiede a volte è molto complicato da dare da ridare quindi tanti hanno il sogno di venire in questa città e magari lo fanno anche per venire perché ci sono delle opportunità ma poi insomma il tradimento come lo chiamo io è sempre dietro l'angolo il fatto che questa città possa in un certo senso un po' tradirti è sempre sempre dietro l'angolo e quindi è molto facile rimanere poi scottati da Milano e Milano che è sempre meno anche dei milanesi intesi come quelli che vogliono vivere questa città e non solo venire qui fare il business e andarsene ecco dobbiamo cercare di salvare la nostra città dall'essere una città solo del business ma di essere anche una città del vivere vivere una città come Milano viverla bene cercare di viverla nella migliore delle maniere andiamo con la musica adesso e cerchiamo di essere un po' più felici anche ci sta eh sì almeno così ci dice lui lui è Farrell Williams e ci dice di essere happy e gli Abbacom gimme 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 alle 8 e 34 minuti Cristiano Radio Milano good morning Milano come è andata ieri con lo sciopero è finito questa mattina in realtà alle 2 è finito questa notte alle 2 ma so che insomma ha dato un po' di problemi perché sono saltati anche i treni in fascia garantita appunto sono stati a rischio e c'erano tutti i treni regionali e il Malpensa Express e praticamente tutto quello che era a rischio è stato rischiato nel senso che ha dato appunto molto molto forte adesione forte adesione in Lombardia per i sindacati appunto lo sciopero è finito alle 2 di questa notte dalle 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 ma posso dire lo fanno apposta la vita difficile però sentite com'è allora dalle 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 tutto lo devi fare dalle 3 alle 3 ho capito che sono 25 ore però nel senso diventa un disastro poi 22 su 23 non si capisce niente poi ti fa da mezzanotte a mezzanotte facciamo prima comunque ieri hanno cancellato praticamente qualsiasi treno durante la giornata durante le fasce ritardi di 120 minuti ci raccontavano questa mattina in redazione insomma che praticamente vuol dire treno cancellato e parte quello dopo quello vuol dire e anche non pensa express ha avuto dei ritardi insomma c'è stato veramente il delirio e fortissima l'adesione appunto da parte dei sindacati a questo sciopero quindi l'ennesimo sciopero di Trenord è andato bene per Trenord un po' meno per i cittadini che dovevano passare la giornata a cercare di capire come far a tornare soprattutto pensando che se sei a Milano e usi il treno sicuramente non sei comodo a tornare in un'altra maniera perché non abiti proprio molto molto vicino e quindi la giornata è stata campale per molti che hanno visto dilatarsi di gran lungo i tempi per ritornare alla Maison o per la mattina venire invece a Milano al lavoro andiamo avanti con la musica è il momento di Levante che comunque ci racconta sempre ci dice sempre ci saranno anche gli sciopri ma tranquilli andrà tutto bene andrà tutto bene Levante andrà tutto bene ed è andato tutto bene a Vasco Rossi sì perché allora è una notizia di qualche giorno fa ma volevo leggere e poi vi spiego perché comunque non c'entra neanche niente con Milano ma ho voglia di farvi sentire un pezzo e quindi ci tenevo Vasco Rossi legge al vittoriale la pioggia nel pineto di D'Annunzio e si racconta sono un comandante con la K un premio culturale non ci sono abituato ebbene sì premiato dalla fondazione per meriti culturali il Vasco il comandante con la K dice le canzoni d'autore non sono solo canzonette sono una forma d'arte moderna che unisce le parole e la musica e si avvicina molto alla poesia insomma sappiamo benissimo come Vasco è veramente un come dire un comandante con la K come dice appunto lui cioè è uno che ha portato la musica a un certo livello è un poeta per molti per altri solo uno che fa canzonette Bennato diceva sono solo canzonette ricordiamo tra parentesi suggerito da Enzo Iannacci quindi come tutto in realtà si collega e come la poesia appunto ha una dimensione a volte assoluta ci sono delle poesie che non passeranno mai il tempo e non invecchieranno mai altri invece sono magari in quell'istante in quel momento in quel momentum funzionano e poi lasciano quello che lasciano pensate c'era praticamente una folla da stadio fuori dal vittoriale di Gardone Riviera solo 1500 persone hanno potuto assistere ed entrare ad ascoltare quello che aveva da raccontare il Blasco il rocker di Zocca appunto ha ricevuto il quindicesimo premio del vittoriale assegnato alla fondazione a personalità di spicco nei vari ambiti culturali il Blasco ha detto d'annunzio era un comandante vero ha detto appunto Blasco dal palco io sono un comandante con la K ma in verità faccio fatica a comandare anche me stesso però tutte le cose che ho fatto le ho fatte coinvolgendo anche altre persone ed è quello forse che appunto fa un un comandante la pioggia del pineto no mi hanno detto giusto quella lì presente quella di d'annunzio no taci e poi dice piove ecco tutta questa notizia ve l'ho data solo per farvi ascoltare questa cosa qui a cui io tengo tantissimo ebbene sì Renato Pozzetto con è arrivato mio fratello quel pezzo in cui lui entra decanta appunto una versione remixata diciamo della pioggia del pineto innaffiando gli scolari un po' troppo animati un po' troppo insomma allegri e quindi lui li fa diciamo li chieta con questa innaffiata facendo piovere appunto taci piove sulle vostre facce appunto ecco così e allora volevo appunto farvelo ascoltare appunto la scena tratta da è arrivato mio fratello con Renato Zero ma invece torniamo al Vasco anzi andiamocelo ad ascoltare ascoltiamoci Vasco Rossi con Buoni e Cattivi o Cattivi Buoni o Cattivi Vasco Rossi 8 e 47 minuti e invece prima abbiamo ascoltato Levante che diceva che andrà tutto bene eh Levante no non andrà tutto bene perché è arrivata una comunicazione da TM sciopero nazionale annunciato da Confail Faisa venerdì 26 aprile leggiamo dal sito TM direttamente venerdì 26 aprile il sindacato Confail Faisa ha proclamato lo sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale locale a livello nazionale ok no trasporto pubblico locale ma a livello nazionale ok lo sciopero al quale ha aderito la segreteria provinciale Sama Faisa Confail interesserà i lavoratori del gruppo ATM e potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 12.45 motivazioni lo sciopero è stato proclamato per forti preoccupazioni legate all'allontanamento della professione di conducente di linea disaffezione al mondo dei trasporti a me piacciono i trenini vorrei dire scusate sindacato io vorrei dire che io sono sempre un amante dei tram ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del TPL CCNL di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro allora scritto così fa un po' ridere ve lo dico già sindacato mio caro però in realtà è seria molto seria la situazione quel famoso disaffezione al mondo dei trasporti quella preoccupazione legata all'allontanamento della professione di conducente di linea sono cose reali cioè ATM fa fatica a trovare lavoratori qualificati nel senso che i curriculum arrivano la gente poi fa fatica a dire questo qua gli facciamo guidare un autobus ma insomma io non gli farò guidare neanche il tricicolo di mio figlio capito quindi capite che quello è il problema cioè sta diventando una professione in cui chi vuole andarla a fare è ormai squalificato ok non c'è più un livello alto di conducenti che invece c'era e riconosciamo alle aziende che operano nel settore quindi disaffezione al mondo dei trasporti è molto seria come cosa ripercussioni quindi poi significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del TPL quindi anche i lavoratori sanno che le aziende del TPL hanno un problema a rimanere in piedi in questa struttura quindi in realtà le motivazioni sono molto serie anche se scritte in maniera che fanno veramente un po' sorridere quindi come sempre al sindacato dico magari un ufficio comunicazione che funzioni un po' meglio non sarebbe male attenzione però perché andando a vedere dal sito ATM le adesioni degli ultimi scioperi beh allora quello di marzo 22 marzo 17% che non è poco ma soprattutto quello del 24 gennaio non so se ve lo ricordate 31% di adesione stiamo tornando con degli scioperi abbastanza alti 27 novembre 8% invece qui l'adesione era abbastanza bassa ma arrivavamo da un 10 novembre dove lo stesso sindacato che era l'OS al Cobas aveva fatto un'adesione percentuale di adesione del 20% e vi assicuro che quando si supera il 15 16 17% incomincia a sentirsi incomincia a farsi sentire sulla sulla cittadinanza e sul sul trasporto quindi vediamo l'ultimo del 22 marzo come dicevo 17% di adesione quello del 24 gennaio non so se ve lo ricordate giornata abbastanza campale quello del 24 gennaio di quest'anno del 2024 ben 31% di adesione adesioni che sono in salita nell'ultimo anno se noi andiamo a vedere le percentuali che qui sono espresse dal 2019 dal 2016 ad oggi erano abbastanza scese spesso e volentieri vicino a quota 10% o anche sotto beh nell'ultimo anno nel 2023 sono risalite ben oltre il 10-15% ogni volta che viene messo uno sciopero viene indetto uno sciopero e quindi attenzione adesso vedremo cosa succederà venerdì 26 aprile con lo sciopero nuovo indetto dal confile Pfizer 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi martedì 23 aprile di Good Morning Milano dopo di noi lo sapete benissimo anche voi ripeteteli insieme a me Ambrogio Curti con senti questa la musica nazionale internazionale raccontata gli aneddoti le storie le date le ricorrenze insomma tutto quello che volete sapere sulla musica lo potete scoprire grazie al bravissimo Ambrogio Curti dopo di noi dopo il giornale radio intorno alle 9.05 qui su Crystal Radio se invece avete tempo quest'oggi c'è lo Svampei una giornata intera dedicata a Nanni Svampa all'elfo Puccini inizia fra un'oretta più o meno anzi 50 minuti fra 50 minuti inizia avanti fino alle 5.30 di oggi pomeriggio tanti appuntamenti tanti ospiti potete andare lì e scoprire ancora di più e scoprire meglio chi e cosa è stato Nanni Svampa se invece dovete per forza uscire quest'oggi copritevi perché fa veramente freddo si congela e c'è tanto tanto umido anche io vi saluto devo andare c'è Elena Versetti da di là del vetro che già mi sta riclamando per oggi io adesso scapperò dall'uscita di retro dello studio e vi do appuntamento invece a domani dalle 7.09 sempre qui su Crystal Radio con una nuova puntata di Good Morning Milano ciao a tutti a domani ciao ciao a tutti Grazie.